Trascorso poco più di un anno dal lancio del Modelier 2017 che Ghibli si rinnova con il Modelier 2018. Ogni anno dal 2013, cioè da quando è stata lanciata, la berlina sportiva per definizione di Maserati ha subito degli aggiornamenti che siano estetici o funzionali, che siano di motore o di software. Con questo rinnovamento la nuova Ghibli, e in questo caso si può davvero dire perché è stata rinnovata sia esteticamente, e poi vedremo come, sia dal punto di vista dei motori che sono aggiornati, ma soprattutto introduce un nuovo elemento che si può intuire dal nuovo scudetto che c'è sulla calandra, ovvero un radar, il radar che serve proprio per tutta una serie di sistemi elettronici di assistenza alla guida e di sicurezza che sono resi possibili solo ed esclusivamente grazie all'introduzione di un elemento meccanico, tra virgolette, che è il nuovo servosterzo elettrico. Un cambio radicale per un brand sportivo come Maserati che ci ha abituati a dei servosterzo meccanici, quindi idraulici, che offrono una serie di vantaggi in termini di handling, di feeling e di sportività, ma che con questo nuovo servosterzo elettrico non perdono nulla, anzi forse fanno un passo ulteriore nel senso della sportività. Almeno questo è quello che ci dice Alex Fiore, il campione del mondo rally che su queste strade l'ha provato, proprio le strade del rally tra l'altro. Che cosa cambia? Ma guarda, il feeling è veramente ottimo, cosa che normalmente quando si passa da uno sterzo idraulico a uno sterzo elettrico è difficile da trovare, invece Maserati ha fatto un grossissimo lavoro, forse anche per questo è arrivato un pochino dopo, perché per perfezionare questo sterzo elettrico che adesso su queste strade invece ti fa trovare il piacere di guidare una macchina sportiva e comunque hai un grossissimo feeling con l'handling della macchina. Mentre invece dal punto di vista dei sistemi che si sfruttano molto di più sulle autostrade in realtà, che cosa porta di novità? Beh, con questo sistema di sterzo elettrico si possono applicare tutti i nuovi sistemi ADAS, quindi il Lane Keeping Assist, il Blind Spot Assist, cioè quei sistemi che ti permettono di rimanere al centro della carreggiata, anche se uno non dovrebbe distrarsi durante la guida, ma magari è un attimo distratto, oppure di non uscire dalla carreggiata se sta sopraggiungendo un'altra macchina dal posteriore. Ecco, durante la nostra prova sulla speciale qui del Rally di Monte Carlo ci siamo veramente divertiti, perché nonostante si tratti di una berlina di 5 metri con un passo di 3 metri e pur non avendo le ruote posteriori sterzanti, la Ghibli è un gatto, sembra veramente, è agilissima. Come è possibile? Ma la macchina veramente ha fatto un salto in avanti, poi è stato anche introdotto questo IWC, che è un'evoluzione dell'SP, che ti permette, mentre l'SP agiva quando la macchina ormai era insbandata, l'IWC prevede i movimenti del pilota e quindi ti aiuta nell'affrontare le curve. In effetti si è sentito. Oltre queste novità che sono sostanziali, quindi si può veramente dire nuova Ghibli, ci sono tutta una serie di dettagli estetici che vanno a connotare due nuove versioni, due nuovi allestimenti denominati Gran Lusso e Gran Sport che si caratterizzano appunto per dei dettagli del paraurto, per esempio, con prese d'aria specifiche, modanature in piano black per la sport e invece cromature sulla lusso e i nuovi gruppi ottici della Magneti Marelli che sono full led, matrix, quindi hanno 28 led che permettono di oscurare fino a 4 zone del fascio luminoso per non dar fastidio al traffico che si incontra e quindi avere la massima luminosità sempre, in ogni circostanza e si adattano anche alle velocità, al tipo di strada che stiamo percorrendo oppure se stiamo per svoltare illuminano l'angolo che ci interessa vedere proprio per evitare incidenti. La connotazione di queste due nuove versioni Gran Sport e Gran Lusso si esprime anche all'interno grazie a dotazioni specifiche che appunto le connotano e le caratterizzano nel senso della sportività da un lato o della comfort e del lusso dall'altro. Ah quasi ce ne stavamo dimenticando, già che c'erano i tecnici Maserati hanno piazzato una ventina di cavalli e 30 Nm di coppia in più sotto al cofano delle versioni a benzina che ora salgono a 350 e 430 cavalli. Insomma passano gli anni ma la Ghibli rimane sempre la più emozionante delle berline con in più il tipico timbro vocale Maserati. Grazie a tutti.